Ciao ragazzi, sta cominciando a riscaldare abbastanza. Ed eccoci al teatro Andromeda dell'amico Lorenzo Reina. Ottima accoglienza da parte di Christian. Il teatro rispetto all'ultima volta che l'ho visto è completamente rinnovato. Molto bello. Chachachachan. Chachachan. per favore tutto il mondo dice vanno a Cuba tutto il mondo dice per favore no tenen pena 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 no tenen pena